E oggi una prima consegna simbolica, abbiamo voluto ricordare ancora i nostri concittadini di donare i giocattoli per i bambini che in questo momento sono più in difficoltà e l'abbiamo voluto fare anche con una piccola festa per tanti bambini della nostra città che non solo ci accompagneranno con la musica e inizieremo la donazione dei doni. Abbiamo iniziato da alcuni bambini ucraini che passeranno il primo Natale fuori casa e da alcuni figli dei dipendenti della ex Whirlpool. Natale e solidarietà a Napoli non si smentisce mai, sono veramente tante le donazioni che abbiamo ricevuto e noi chiediamo ancora di sostenere il giocattolo sospeso perché i giocattoli arriveranno a tutti i bambini delle nostre famiglie più fragili. Questo è un momento faticoso, c'è tanta povertà, abbiamo bisogno di sostenere le famiglie e di dare ai bambini un momento di gioia e di fantasia, il Natale è bello per tutti. Feliz Navidad! 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 E questo ovviamente è un momento simbolico per stare vicino a tanti bambini che vivono situazioni di difficoltà, tante famiglie che hanno problemi con il reddito, con il lavoro. è solamente un segnale, un segnale di solidarietà, di una Napoli solidale, vicina alle persone che hanno bisogno, sicuramente non risolve i problemi ma dimostra l'attenzione dell'amministrazione della città verso tutte le persone che soffrono e che hanno bisogno di un sostegno e che non saranno lasciate sole. Feliz Navidad! 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 di tutto perché ho iniziato ad inseguire i miei sogni, quindi ricordatevi che il Natale è speranza, è tanta speranza, auguri a tutti i bambini, auguri a tutti i ragazzi, auguri Napoli! Io voglio solamente dare un grande augurio, un augurio di un Natale sereno, di un anno nuovo che porti speranza, salute, lavoro e che ci veda tutti quanti insieme, perché se siamo uniti possiamo arrivare dappertutto e quindi mi auguro che veramente la nostra città si è unita veramente per dare un'opportunità a tutti e soprattutto aiutare chi oggi ha più difficoltà, quindi un Natale di speranza, di pace, di amore, di salute per tutti e veramente auguri nelle vostre famiglie, ai vostri cari e auguri a tutta la nostra bellissima città. Buon Natale!